mamma mia queste donne e la do io la stessa e la vostra maschera da quando c'è è rinata dopo che abbiamo riscoperto degli iscritti del professor Bono e Risalenti le descrizioni che faceva lui delle usanze di Sant'Antonio e qui cosa c'è in mano? le fascine perché noi facciamo praticamente il palo semuliamo perché sono tutte maschere le corna dei cervi da dove vengono? cervi e daino cervi e daino sì sono corna caduche quindi le troviamo in campagna ascolta bianchi e neri perché? no non hanno nessun significato particolare no no e quindi su richiesta si si maschi e bimbi ho visto che siete noi è uno dei pochi gruppi che includiamo anche le femmine perfetto sono tutti benvenuti